Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Deborah Gloria Lettieri, ballerina classe 1983, debutta oggi ad Amici come nuova professoressa di danza. Non è nuova al mondo dello spettacolo. Nel 2018 è stata giudice a Dance 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 su Fox Live e nel 2012 ha ballato al Crazy Horse di Parigi con dive come Dita Von Tise. Riservata sulla sua vita privata, Deborah ha studiato scienze motori a Parma e ha iniziato la sua carriera a New York prima di entrare nel corpo di ballo del Teatro Reggio di Parma. Il suo debutto ad Amici 24 è atteso con curiosità. Chi è Deborah Lettieri e come ha conquistato un posto nel talent show di Maria De Filippi? Formata alla Jazz Dance Studio, Deborah ha superato una selezione rigida per ballare al Crazy Horse con il nome d'arte di Gloria di Parma. In un'intervista del 2018 ha raccontato la sua esperienza nel celebre locale di Cabaret Parigino dove ha imparato la disciplina e l'arte della nudità scenica. Deborah Lettieri, nata a Parma nel 1993, ha affiancato grandi nomi come Dita Von Tise e Noémie Lenoir sul palco del Crazy Horse. Nel 2018 è stata giudice a Dance 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 e nel 2019 ha curato le coreografie di fame le musical a Parigi. Ora, nel 2024, si prepara a guidare gli allievi di Amici come professoressa di danza. Con il suo background eclettico e la sua esperienza internazionale, Deborah Lettieri si presenta come un volto nuovo e affascinante.